I 10 punti di differenza non si vedono, ma come non si vedono con loro, non si vedono con l'ultima in classifica, non si vedono con il Desenzano, non si vedono con il San Giuliano. È un campionato equilibrato e la mentalità e quanto lavori e quanto fatichi fanno la differenza all'interno sia della partita che della stagione. Credo che questi ultimi 10 giorni, 2 settimane, ci sia stato un bel riscatto mentale e caratteriale di tutto il gruppo. Non ci credo tanto agli scatti da un giorno all'altro, da una partita all'altra. Credo che sicuramente ci siamo trovati in una situazione brutta, perché guardavi la classifica, era veramente brutta e quindi forse dentro ognuno di noi è scattato qualcosina. I nuovi acquisti ci hanno dato una mano, ma secondo me chi ha giocato fino alla partita prima al loro posto comunque ha sempre fatto, ha svolto il proprio compito. Credo che ci sia stata un'unione di forze data la situazione. Eravamo là in fondo e non c'era tanto da fare. O lavoravi e vincevi, correvi più degli altri, se no il destino era continuare a perdere domenica dopo domenica. Ma non ci stavamo. Fondamentalmente questo mondo è difficile, non è facile. Chi c'è dentro lo sa, da fuori a volte è facile commentare a livelli sia superiori, in Serie A, ma anche in queste categorie qua non è sempre facile. Io sono sereno con me stesso, io so quanto ho lavorato, so quanto ho spinto ogni giorno, ho provato sempre a dare una mano a squadra con la voce. Poi è normale, venivo da sei mesi di infortunio e era normale prendere condizione piano piano, però io sinceramente sono orgoglioso dei miei primi sei mesi, nonostante magari non siano stati a questo livello come le ultime partite.